Questo video riguarda i migliori tre telefoni cordless. Il vincitore della qualità è il Giga 7275 Duo. Passare le chiamate, per avere più spazio in rubrica, per mettere un portatile dove non c'è una presa telefonica. Basta collegare la stazione alla linea telefonica e alla presa della corrente e l'altro portatile dove c'è una presa della corrente, ovunque in casa. Display ad alto contrasto, menu con simboli grandi e numeri grandi. Funzione amplificatore per un ascolto extra forte, due profili acustici alta, bassa frequenza, compatibile con apparecchi acustici. Viva voce, blacklist fino a 32 numeri di telefono, funzione non disturbare per esclusione della suoneria a tempo, volume suonerie regolabili, tasti di chiamata rapida sui numeri della tastiera. 100% made in Germany. La tecnologia ecologica ECO 10T garantisce una riduzione delle radiazioni e del consumo energetico. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Gigasetta S405A. Quando devi effettuare una telefonata, la priorità è la facilità d'uso. Gigasetta S405 il cordless moderno, ultra confortevole e facile da usare. Puoi memorizzare fino a 100 contatti nella rubrica e telefonare con una qualità audio veramente eccezionale. Abbiamo progettato Gigasetta S405 per il tuo comfort. Potrai godere di una leggibilità eccezionale, persino in condizioni di scarsa luminosità, grazie all'ampio display da 1.8, illuminato con un ottimo contrasto. Inoltre il tasto verde illuminato ti permette di effettuare una chiamata in viva voce e il tasto dei messaggi illuminato di rosso ti indica la presenza di chiamate perse. 100 nomi e numeri delle persone più importanti della tua vita a pochi clic di distanza. E per i numeri che chiami più spesso hai la possibilità chiamarli velocemente con un tocco. Gigasetta S405 ti dà la possibilità di inserire i numeri di chiamata rapida nei tasti 0 e da 2 a 9. Il vincitore del premio è il Gigasetta S275. Basta collegare la stazione alla linea telefonica e alla presa della corrente e il gioco è fatto puoi già iniziare a fare le tue telefonate. Facile da usare grazie ai pulsanti grandi e illuminati e alla navigazione del menu semplice e intuitiva. Display ad alto contrasto, menu con simboli grandi e numeri grandi. Funzione amplificatore per un ascolto extra forte, due profili acustici, compatibile con apparecchi acustici. Viva voce, blacklist fino a 32 numeri di telefono, funzione non disturbare per esclusione della suoneria a tempo, volume suonerie regolabili, tasti di chiamata rapida sui numeri della tastiera. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.